Questo è il Power Armor 14, un smartphone con Android 11 con uno assist indistruttibile adatto a coloro che svolgono un'attività diciamo che un po' rischiosa come l'operaio oppure che amano fare escursioni in montagna o comunque in tutte quelle attività in cui un telefono può cadere accidentalmente oppure essere messo a rischio perché magari è troppo delicato. Il Power Armor 14 viene venduto in una confezione colorata con uno stile che lascia intuire la sua vocazione di telefono resistente. All'interno troviamo naturalmente alcuni piccoli depian illustrativi delle funzionalità più naturalmente c'è l'accessorio per la rimozione della sim e in più viene fornito anche di una pratica protezione per il display. Sempre all'interno della confezione poi naturalmente c'è lo smartphone che una volta preso in mano si percepisce subito il suo peso importante, infatti questo smartphone pesa ben 358 grammi. Non è sicuramente uno di quei smartphone tascabili da utilizzare così quando si va in giro. Poi all'interno della confezione naturalmente non manca il caricatore con il cavetto USB-C e in più è presente anche un piccolo laccetto per il polso. Il display è da 6,52 pollici con una risoluzione HD+, ovvero una risoluzione pari a 720x1600. Il design è un po' massiccio ma questo è normale perché si tratta di un telefono rugged e ha una scocca realizzata per resistere agli urti, quindi a cadute anche da 1,5 metri e può essere anche utilizzato sott'acqua fino ad una profondità di 1,5 metri per 30 minuti perché è impermeabile secondo lo standard IP68. Ogni parte del telefono è stata progettata per resistere alle infiltrazioni d'acqua, così come per esempio lo slot per la sim card e la memory card. Ha una memoria interna da 64 GB che possono essere aumentati attraverso una microSD. Il processore è un Mediatek Helio G35, si tratta di un processore 8 core da 2,3 GHz a cui sono poi abbinati 4 GB di memoria RAM. È provvisto poi del comodo jack audio in modo da poter collegare una classica cuffietta con il cavo, cuffietta che non è fornita in dotazione e anche il jack audio è naturalmente protetto con un piccolo gommino contro le infiltrazioni d'acqua. Il peso elevato di questo smartphone è dovuto anche e soprattutto alla batteria, alla capiente batteria da 10.000 mAh che può essere ricaricata con naturalmente il caricatore fornito in dotazione e il cavetto USB C. Grazie a questa batteria si può contare su un'autonomia in standby di ben 540 ore, quindi più di 10 giorni in standby e un'autonomia invece in conversazione di 54 ore. Il Power Armor 14, come ho detto, è equipaggiato con Android 11 e ha tutto uno chassis, ha tutta una scocca resistente agli urti e impermeabile, quindi può essere utilizzato in qualsiasi condizione senza il pericolo di danneggiarlo o di rovinarlo. Può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti senza che si danneggi, quindi è impermeabile secondo lo standard IP68. Il corpo è realizzato con un materiale resistente agli urti, quindi anche se cade accidentalmente comunque non si danneggia. È equipaggiato con un sistema triplo fotocamera posteriore con una fotocamera principale da 20 megapixel, mentre quella frontale è da 16 megapixel. Sul lato destro del telefono invece troviamo sia il pulsante per regolare il volume sia quello per l'accensione. Il pulsante per l'accensione ha integrato anche il sensore per l'impronta digitale. Questo telefono può anche essere utilizzato con lo sblocco facciale, funzione che viene fornita appunto dal Power Armor 14. Sul lato sinistro invece c'è un pulsante sempre fisico che può essere personalizzato a seconda delle esigenze in modo che possa essere utilizzato facilmente quando si intostano dei guanti, per esempio quando si sta facendo qualche attività fisica o si sta eseguendo qualche lavoro. Tra le altre funzioni l'Armor 14 è anche una radio FM che può essere utilizzata senza dover collegare le classiche cuffiette col cavo, quindi si può sintonizzarsi e ascoltarsi la radio a mani libere quindi senza dover per forza utilizzare le cuffie. Inoltre il produttore offre un'interfaccia personalizzata con dei pulsanti molto ampi in modo da poter essere utilizzati molto più semplicemente quando si utilizzano per esempio dei guanti e quindi questo ne facilita l'accesso alle varie funzionalità perché essendo un telefono pensato appunto per un utilizzo particolare quindi in condizioni di lavoro oppure mentre si sta facendo qualche attività fisica questa interfaccia diciamo è stata pensata proprio per renderne l'utilizzo molto più semplice ma naturalmente si può poi bypassare questa interfaccia utilizzare quella classica di Android 11. Ma la cosa strabiliante di questo telefono è che tutte queste caratteristiche di questo telefono sono disponibili ad un prezzo inferiore a 200 euro è facile trovarlo su internet sul sito del venditore ufficiale anche a poco più di 150 euro quindi con 150 euro uno si porta a casa un telefono indistruttibile quindi senza dover acquistare scocche aggiuntive con Android 11 e tutte quelle funzionalità di cui uno ha bisogno dell'utilizzo quotidiano di uno smartphone di display gigante batteria ad alta capacità e fotocamera potente con modalità di scatto subacqueo proprio perché è un telefono che essendo impermeabile uno lo può utilizzare anche per realizzare foto subacquea. Riassumendo quindi tutte le caratteristiche dell'Armor 14 abbiamo un smartphone dal design indistruttibile impermeabile secondo lo standard IP68 con 4 gigabyte di ram e 64 gigabyte di memoria interna espandibili con una scheda micro sd fino ad un terabyte il display è un hd plus da 6,52 pollici il comparto fotografico è dotato di tre sensori con quello principale da 20 megapixel mentre la fotocamera frontale da 16 megapixel ha una batteria da ben 10.000 milliampere e supporta la ricarica da 16 watt mentre è disponibile anche la ricarica wireless funzionalità che di solito non si trova in telefoni di questa fascia di prezzo il processore è un mediatek helio g35 che è un processore a 8 core da 2,3 gigahertz e offre come sistema di riconoscimento sia il sensore per impronte digitali sia il riconoscimento facciale la piattaforma su cui è basato questo smartphone e android 11 quindi anche una delle ultime versioni di android e quindi si ha diciamo un telefono abbastanza recente in tutte le sue funzionalità